Ciao ragazze! Allora, oggi fa un freddo, freddo, stamattina mi sono svegliata che sembrava che c'erano i pinguini alla fine del letto e niente, mi sono messa la felpa perché fa proprio proprio freddo e con questo video non so esattamente cosa dirvi perché appunto ho ancora il cervello in off. Stamattina dovevo lavorare ma alla fine niente, quindi sono libera e ho detto va sì dai trucchiamoci un po' non stiamo in giro con questa faccia. Quindi niente, volevo fare un trucco semplice usando veramente poche poche cose per risultare un po' più decente. Quindi, allora, per prima cosa io ho già messo la mia luminosa e la crema idratante e adesso vado a coprire questo over obrio. Cosa faccio? Allora, prendo il mio fondotinta, utilizzo questo qua della Kiko che è lo Skin Evolution e lo applico con la mia spugnettina. Adesso vado a darmi un colorito perché sono molto molto bianca come sempre, quindi cosa faccio? Adesso prendo la mia cipria di alastra che è un po' più, un velo più scura della cipria che utilizzo solitamente e la vado ad applicare con il mio pennellone gigante, questo qua. Vado ad illuminare un attimo questa zona con il mio All Over Cover Stick della Elf e questo qua appunto è il ED01 che c'è anche nel giveaway, mi raccomando, andatelo a guardare. Adesso vado a preoccuparmi appunto degli occhietti, quindi vado a prendere il mio matitone, questo qua della Issy, lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile. Adesso vado a prendere la palette della Frelen, allora io utilizzerei questo qua, che è un marrone brillantinato, satinato, pardon, e lo stendo semplicemente col dito. Adesso prendo questo bellissimo oro, questo qua, e sempre col dito lo vado a mettere solo. A metà della palpebra mobile. Adesso prendo il bianco matto, questo qua, e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare, così. Adesso volevo dare più profondità agli occhi, quindi eyeliner in liquido, normalissimo, che è il waterproof della Kiko, il definition eyeliner, e lo vado a stendere appunto. Ok, adesso metto il mascara, questo qua della New York Colors, il City Curls, e lo vado a mettere sia sopra che sotto. Ok, adesso per le labbra, vado a mettermi poco poco di luci di labbra, questo qua, della Easy Paris. dovrebbe essere il... I don't know. Vabbè, è un color fucsiato, strano. Un semplice luci di labbra. Va bene. Allora ragazze, questo era il mio trucco easy, velocissimo, quindi può andare benissimo per chi deve andare a lavoro, per chi è di fretta, o come sempre per chi non ha voglia di truccarsi, vuole fare una cosa veloce. E niente ragazze, io con questo video vi mando un grosso bacio, vi saluto, spero che vi sia stato utile questo video. Scusate la voce bassa, l'intorpidimento di tutto il corpo comunque, anche facciale, perché appunto ho freddo, ho le mani ghiacciate, e poi ho sonno, proprio sonno, 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 quindi sono un po' così. Quindi, niente, adesso vi lascio sul serio, ciao!